A Palena il Pescara rifila 14 rete di una rappresentativa locale direttantistica. E' l'ultimo galoppo per la squadra di Oddo che si prepara al debut in Team Cup quando domenica sera all'Adriatico arriverà il Sud Tirol di Giovanni Stroppa. In evidenza Ante Vukusic, autore di un poker nel primo tempo, doppiette a testa nella ripresa per Sanzovini e Lapadula, oggi mattinata libera e allenamento solo nel pomeriggio. Volge al termine anche la terza parte del ritiro di Palena, ma le attenzioni più grandi sono sempre rivolte al mercato. Il presidente Sebastiani ha fatto il punto della situazione frenata per Cristian Galano del Bari. L'accordo tra le società non sembrava lontano ed invece la trattativa in stand-by, come confermato anche dalle parole del DS Pavone, non tutto torna e il nodo è sempre quello del prezzo del cartellino con Pescara e Bari che non hanno fatto passi concreti per avvicinarsi. Di nomi per l'attacco ce ne sono molti. L'ultimo circolato è quello del Diablo, Pablo Granoce, che è del Modena e al momento non ci sono segnali concreti che possa lasciare o che i canarini siano disposti a cederlo. Richmond Boacì dell'Atalanta non vuole scendere di categoria. Diego Falcinelli è stato per ora bloccato dal Sassuolo, ma non è escluso che nei prossimi giorni la squadra di Di Francesco non si trovi costretta a dar via elementi in esubero in attacco. Il Pescara ne potrebbe approfittare. Forta concorrenza per Matteo Mancoso in uscita dal Bologna. Piace molto al Brescia. Da monitorare la situazione della difesa, visti gli stop per l'infortunio di Ciosic e Bunoza. A proposito di centrali, Pesoli non rientra nei pieni di Oddo e l'Aquila si è fatta avanti. Il difensore di Anagni però ha fatto sapere che se andrà via da Pescara vuole restare in B. Su di lui ha buttato gli occhi la Salernitana. Intanto il centrocampista Valerio Verre, arrivato in prestito dall'Udinese, ieri ha partecipato alla sgambata. Queste le prime parole del neo biancazzurro. Sono contento di essere qui, innanzitutto il gruppo è fantastico. Tutti i ragazzi mi hanno accolto benissimo. Li ringrazio e speriamo di concludere al meglio questo ritiro perché poi domenica ci aspetta la prima partita ufficiale. È stata un'esperienza bellissima con la Perugia che non dimenticherò mai, ma adesso inizia una nuova sfida e sono carico, sono pronto perché è una sfida che mi piace.